Faccio, faccio, faccio! Poi chiamarlo tu. Non posso andare. Faccio. 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 Mi sento quello che dici. Sì, a questo, ma questa qui, non so, è di un'altra cosa. Perché lui mi dice che la tua è più recente. Sì, la mia, tutto questo che ha lui, sul blocco solo. Sì, me l'ha detto, è integrato da... Ti metti 300 lire e viene fuori al fine. No, ma io non mi interessa questo, mi interessava la... No, è più complicata questa, solo lui può, non capisco niente. Io volevo dire per fare un'altra cosa che ha detto, che tutto quello che ha lui ce l'hai fatto. Sì, sì, sì. Non poni la mano. È concentrato, ci sono cose eliminate qui che non servono, che sono concentrate. Ci ho detto tre cose, ne l'ho fatto una, hai capito? Comunque, se non si feriano ancora qui. No, di là non trovi mica niente. Grazie. 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 Grazie.